Preghiera del mattino, per la pace interiore, ricordati di lasciare un like per supportare il canale. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla, è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava, ciò che è sordido, bagna, ciò che è arido, sana, ciò che è sanguina. Piega, ciò che è rigido, scalda, ciò che è gelido, drizza, ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona, virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E dopo avere pregato per la tua giornata serena, iscriviti al canale e lascia un like.